2017 ormai al termine, tempo di bilanci per l'Ulset e Pedemontana in questo difficile anno d'accorpamento tra due forti in realtà molto diverse. Intanto una buona notizia che riguarda i tempi delle liste d'attesa per le visite. Abbiamo iniziato ad applicare quelli che sono i nuovi tempi d'attesa che sono stati ridotti dalla regione, in particolare per le prestazioni che erano a 60 giorni poi sono state portate a 30 e quelle a 180 portate a 90. Abbiamo quindi riorganizzato i servizi e con i dati che abbiamo di settembre, l'ultimo monitoraggio siamo al di sopra di quelli che sono gli obiettivi regionali. E poi attenzione a tutto il territorio con il potenziamento negli ospedali di comunità, quelli per il post ricovero per capirci e nelle unità riabilitative territoriali a Bassano, Alto Vicentino e Alto Piano e il 2018 sarà un altro anno di rivoluzioni. Andremo a ridisegnare l'assetto territoriale ovviamente con le nuove schede ospedaliere, dovremo fare delle scelte tra Sant'Orso e Bassano, ovviamente cercheremo di mantenere tutti i servizi che oggi ci sono nei due nosocomi con la specificità di Asiago e ovviamente nell'ottica della razionalizzazione ma anche dell'efficientamento dei servizi. Ricordiamoci che oggi non conta il servizio più vicino ma conta il servizio di qualità. Fondamentale in tutto ciò il ruolo della politica. La politica può fare molto, soprattutto nel rapporto con i sindaci che sono i primi intermediari tra la politica e il cittadino. L'USP da Montana, l'abbiamo detto tante volte, è un'USP molto particolare che ha come compito di integrare due realtà molto simili, Alto Vicentino e Bassano, realtà che hanno delle qualità molto importanti ma magari metodi per raggiungere questi livelli diversi.